ciao ragazzi sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi parleremo di incisori laser questo è il gemmizu l8 un incisore laser che arriva così come lo state vedendo adesso quindi non dovete fare nulla se non toglierlo dalla scatola e metterlo sul piano di lavoro che anche un sistema fantastico per quanto riguarda il piano di lavoro perché è bloccato ma questo ve lo farò vedere fare poco e parleremo a proposito di incisioni a colori sull'acciaio oppure di dove trovare il metallo perché è difficile in tanti me lo chiedete cambiamo in curatura vediamo come è fatto questo gemmizu l8 vi ricordo che vi lascerò però pure il link spero anche un bel codice di sconto per farvi risparmiare quindi guardiamo vediamo come è fatto è tutto quello che in grado di realizzare iniziamo scusate il disordine ma questo incisore laser lo sto utilizzando davvero un bel po da almeno una settimana e qua ci sono le prove che ho fatto per voi per farvi rendere conto delle prestazioni di questo incisore togliamo questo che non ci serve e guardiamo com'è fatto sia dalla parte estetica che dalla parte funzionale quindi si apre il coperchio in questo modo apprezzatissimo il fatto che sia trasparente nel mio caso potuto guardare anche il monitor del mio computer da questa parte abbiamo pure la telecamera quindi si può anche inquadrare tramite light bar e qua come vi dicevo abbiamo il piano di lavoro fissato sulla struttura a questo sistema che lo blocca quindi impedisce di muoversi e quante volte vi sarà successo mentre il decisore sta lavorando e dare un piccolo colpetto bene guardate si muove tutto contemporaneamente non c'è il rischio da un colpo che la nostra decisione si possa spostare questa è una cosa che mi è piaciuta davvero tantissimo poi abbiamo tutto ordinatissimo all'interno solo questi due cavi e il capo che va a finire sul modulo ovviamente c'è anche l'illuminazione con dei led qua abbiamo delle strisce led qua abbiamo anche un'altra strisce led nella parte frontale abbiamo tutte le varie connessioni più questa che la regolazione della pompa per l'air assist solo che l'air assist non è automatico tastino d'accensione si può utilizzare anche offline mettendo la scheda all'interno di questa porta fungo di emergenza poi il led nel caso in cui rilevi la fiamma questa è la chiave per poterlo bloccare impedire qualcuno lo utilizzi contro la nostra volontà dotato ovviamente di limit switch da questa parte abbiamo la regolazione della messa a fuoco per diversi spessori di materiali quindi si può girare in tre posizioni differenti e poi si mette in questo modo per incidere la regolazione dell'altezza va fatta spostando questa levetta e quindi poi ribloccandolo e poi abbiamo anche due led che indicano se dovesse rilevare delle fiamme la ventola questa invece un led progressivo in base alla potenza va aumentando per quanto riguarda la struttura arriva già montata ho dato una controllata e le viti sono tutte strette per bene quindi davvero un ottimo prodotto allora se devo essere sincero po perché dobbiamo cercare il pelo nell'uovo se alzando il coperchio non fate attenzione comunque lo scuotete può succedere che questa parte si mette in questo modo e quindi si incastri leggermente ma è una cosa che mi è successa una volta su 200 aperture ma proprio perché devo trovare il pelo nell'uovo non devo dirvi che perfetto al cento per cento ma lo definirei praticamente quasi perfetto al cento per cento sia dal punto di vista delle prestazioni che come struttura in generale nella parte in fondo come vedete abbiamo questo bocchettone con una ventola il tubo per l'aspirazione che vi danno in dotazione e questo io non l'ho utilizzato perché ne sto utilizzando uno che già possedevo comunque è la stessa cosa ora prima di vedere i lavori e quindi le sue prestazioni voglio farvi vedere come funziona dal punto di vista della sicurezza allora si accende in questo modo accendiamo anche il compressorino ok il compressore che viene dato in dotazione e questo l'abbiamo visto più volte anche su altri incisori laser non è silenziosissimo però non vibra perché ai piedini anti vibrazione luce led nel tasto di accensione e quando lo aprite se state incidendo si blocca per poi cominciare di nuovo di incidere quando lo richiudete infatti come vedete qua abbiamo questa luce led che per ora è fissa quando lo apro lampeggia quindi ci avvisa e dopo torna fissa spegniamolo dal fungo di emergenza e come vedete ci avvisa che è ancora in stand by quindi la luce led rimane accesa l'incisore non è spento ma è non funzionante perché c'è appunto il tasto fungo di emergenza premuto per poterlo riaccendere basta ruotarlo verso destra ora però spegniamolo e guardiamo i vari dettagli dell'incisore e quindi le caratteristiche tecniche dal computer ma soprattutto quello che è riuscito a fare la prima cosa che ho fatto sono stati come sempre i material test questo material test che riguarda i riempimenti gradualissimo perfetto gestibilissimo come sempre ho esagerato un pochettino perché volevo vedere le prestazioni anche al 100 per cento dal 10 al 100 per cento da 3.000 a 12.000 millimetri al minuto ed è andato benissimo forse avrei preferito una gradualità maggiore in questa parte però mi sono fermata a 12.000 millimetri al minuto poteva andare un pochettino più oltre come velocità però mi ha permesso di ottenere questo gran bel risultato quindi questa incisione di questa ragazza che ormai incido sempre perché ha dei bei dettagli tante sfumature nella parte posteriore i dettagli dei capelli gli occhi il nero corposo su giubbotto le ombre sul viso quindi mi permette di capire benissimo come si comporta e devo dire è inciso molto molto bene un 8 pieno su 10 glielo dopo un piacere perché per me è un bel lavoro ovviamente non potevano mancare le prove di taglio che poi ho utilizzato per ritagliare questo logo e tutto il resto che vedete sul betulla è riuscito a tagliare tranquillamente a 400 mm al minuto con il 60 per cento di potenza si è proprio una linguettina invisibile comunque 400 mm al minuto anche se avesse tagliato al 70 per cento è ottimo come prestazioni questo su tre millimetri di betulla è difficile da tagliare invece per quanto riguarda il multistrato da sei millimetri in questo caso di citati a 300 mm al minuto con una potenza già come vedete a questa parte del 70 per cento pure in questo caso solo che considerate che avevo dimenticato e si vede alle sfumature quindi da questi degli bruciatura di accendere l'air assist non essendo automatico dovete essere pronti a girare alla rotellina questo è il mio logo anche questo inciso benissimo è ovviamente tagliato anche benissimo quindi nulla da ridire anzi mi piace davvero molto guardate ha anche scavato leggermente legno quindi abbiamo un logo un poco a rilievo a proposito dei tagli ho realizzato anche questi semplicemente per farvi vedere come sia pulito nei tagli non ci sono segni di bruciatura anche nel legno questa volta mi ha deluso leggermente in alcune zone non si tagliava lasciava dei segni bruttissimi guardate qua ci sono questi segni ma sono dovuti proprio al materiale che fa un po schifo diciamo guardate qua niente forse è umido non lo so comunque questo è un altro taglio poi ho realizzato questo insegna per un amico che è una pasticceria e ho fatto la prova anche sulla beta pieno da 9 mm questo l'ho tagliato la prima volta a 200 mm al minuto come faccio sempre le prove per questi incisori laser al 90 per cento di potenza e poi ho voluto ripetere la stessa prova 600 mm al minuto però questa volta ho voluto fare sì che un passaggio due passaggi guardate queste 200 mm al minuto non ci sono segni di bruciatura è venuto benissimo questo 600 mm al minuto è venuto ancora meglio a me piace davvero tantissimo non c'è assolutamente bruciatura è leggermente nocciola quindi scusatemi mi sono mosso comunque come taglio per me va benissimo non c'è bruciatura né sulla parte superiore nemmeno in quella inferiore quindi ottimo risultato ora prima di passare al material test meraviglioso sull'acciaio vi faccio vedere alcune riprese dettagliate alcuni time lapse di questi tagli e questi lavori Grazie per la visione 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 Grazie per la visione